Siamo con Serafini Giorgio, centrocampista della Berettigia Nerminio, oggi contro la Provercelli è arrivata questa vittoria per 5-1, una larga vittoria direi anche meritata per quanto visto in campo. Sicuramente, arrivavamo da due partite dove soprattutto l'ultima abbiamo fatto una buona prestazione e per poco non siamo riusciti a portarla a casa e questa qua è stata una prova di grande spessore e soprattutto molto contenta per la squadra e per il risultato perdato a casa. Tre punti che vi danno morale anche per il proseguo del campionato, giusto? Sicuramente, la prossima sarà una partita molto difficile e dobbiamo continuare su questa strada perché ci meritiamo dove siamo e sicuramente possiamo continuare su questo percorso. In questo risultato abbiamo visto anche il tuo gol, sei soddisfatto anche? Sicuramente, ma preferisco vincere con la squadra che raggiungerà questi piccoli obiettivi, però comunque è un gran piacere. Va bene, grazie mille. A te.